Salve a tutti ragazzi e ragazze del vostro pazzo simpatico, siamo qui sul mare laziale, precisamente ad Anzio, dietro al porto di Anzio e oggi andiamo a pesca, infatti già ho montato tutto e ci siamo trovati un pochino su questo posto un po' più apertato e questo è il mare, questo è un bel posto anche per pescare ragazzi, l'acqua non vi arriva e vabbè ragazzi, eccociò, bocca al lupo e ci sentiamo al prossimo video, ciao!